Incendi Boschivi, diamoci un taglio, è il titolo della manifestazione organizzata dalla Regione Toscana e dalla città metropolitana nel Parco Medicio di Pratolino per consegnare il Pegaso d'Oro, il riconoscimento già assegnato ai Vigili del Fuoco nel 2014 anche a tutti gli altri protagonisti del servizio antincendio. Volontari, operai forestali della Regione, delle Unioni dei Comuni e della città metropolitana, personale della sala operativa unificata dell'antincendio Boschivi e dei centri operativi provinciali. I direttori delle operazioni antincendi, i piloti della flotta aerea e gli istruttori del centro addestramento AIB Pineta di Tocchi. Quest'estate è stata davvero drammatica, si sono avuti un numero di incendi cinque volte superiore alla media dei cinque anni precedenti. Ho potuto vedere io stesso la dedizione, il coraggio, la capacità di anche dominarsi e saper intervenire e anche il dispiegamento dei mezzi che abbiamo come Regione Toscana. Soprattutto questo ha consentito di ridurre i danni. Nel corso della giornata sono stati organizzati anche giochi per famiglie, approfondimenti tecnici, dimostrazioni da parte dei volontari. La medaglia con il Pegaso, il cavallo alato simbolo della Regione Toscana, verrà conservata a Monticiano, nei locali della Pineta di Tocchi, il centro regionale di addestramento del personale AIB. Grazie a tutti.